Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale La fondazione Carifano in aiuto del centro Alzheimer Margherita di Fano faremo la nostra parte, assicura il presidente Gragnola Adesso è ufficiale, i marchigiani al voto il 20 e 21 settembre per eleggere il nuovo governatore e i consiglieri regionali Si chiama Progetto Cotton Fiocchi e a Pesero ha riscosso molto successo volontari in azione per la pulizia di parchi e spiagge Taglio del nastro per l'edizione 2020 di Sinestesia Mondolfo il festival della multisensorialità, quest'anno prevede mostre sulle arti visite Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Anche questa sera diamo spazio al centro Alzheimer Margherita di Fano chiuso ormai da cinque mesi Ieri c'è stato un incontro tra la cooperativa che gestisce la struttura e la fondazione Carifano che l'ha di fatto realizzata Dal prossimo turno la fondazione tornerà ad occuparsi del progetto del centro residenziale per dare un servizio ai malati di Alzheimer 24 ore su 24 Simona Zonghetti La fondazione Cassa di Risparmio di Fano da sempre attenta alla tematica dell'Alzheimer sta continuando a fare la sua parte Lo assicura il presidente Giorgio Gragnola che ieri ha incontrato la cooperativa che gestisce il centro Margherita ha chiuso dal marzo scorso a causa dell'emergenza sanitaria L'obiettivo è stato quello di capire quali sia lo stato dell'arte e quali i possibili sviluppi sulla vicenda Anche la cooperativa appunto ci ha confermato che nella situazione pre-covid c'erano circa 28-30 utenti che potevano frequentare contemporaneamente la struttura e in base alle normative attuali questo numero scende drasticamente a 7 Oltre alla riduzione di utenti sarà anche necessario garantire un operatore per ogni malato un aumento di costi che andrebbe a ricadere sulle famiglie per questo si attende un aiuto da parte del servizio sanitario della regione che ha una convenzione con la cooperativa Quello di ieri inoltre non è stato il primo incontro tra i vertici della fondazione e la labirinto Continua dunque l'impegno della fondazione che in sinergia con il comune di Fano aveva promosso e finanziato il centro inaugurato il 5 aprile 2014 grazie ad un investimento complessivo di 2 milioni e 400 mila euro La fondazione Cassa di Risparmio di Fano penso che abbia già fatto un bel pezzo di strada perché ha messo a disposizione del territorio e della comunità questa struttura che è stata pensata dall'allora consiglio di amministrazione presieduto dall'ingegner Tombari di cui facevo parte anch'io appunto del consiglio di amministrazione è stato un investimento importante ma la fondazione sta continuando a derogare perché per esempio partecipa al pagamento delle utenze elettriche attraverso gli impianti del sistema fotovoltaico che è stato realizzato a suo tempo La cooperativa, prosegue a Gragnola, tra qualche giorno ci farà avere una relazione dettagliata con le possibili soluzioni per riaprire la struttura qualsiasi ipotesi verrà presa in considerazione e discussa nel nostro consiglio di amministrazione Le nostre sono comunque risorse modeste e in questo momento le esigenze sono tante ed in tante direzioni quindi laddove siamo già intervenuti probabilmente bisognerà verificare concretamente in che cosa consiste l'eventuale ulteriore impegno Il Presidente ha poi lanciato un appello al terzo settore e al mondo del volontariato affinché si mobilitino e si mettano a disposizione del centro ad esempio con il servizio di trasporto o mediante quello di assistenza Ogni aiuto sarebbe necessario per dare un sollievo ai tanti familiari che stanno chiedendo a gran voce sia la riapertura del Margherita sia la realizzazione di una struttura residenziale che possa garantire un'assistenza ai malati 24 ore su 24 Infatti il progetto della fondazione prevede tre strutture nell'area di 15.000 m2 situata in zona aeroporto un centro di urno per persone affette da Alzheimer e altre demenze senili diviso in tre nuclei per un totale di 1.100 m2 Un centro di automoto aiuto destinato a supporto dei familiari di 148 m2 è dato e incomodato per 60 anni al comune e poi un centro residenziale per pazienti con patologie che rientrano nel quadro delle demenze senili proprio quest'ultimo è quello su cui si dovrà lavorare nei prossimi mesi Prima dell'emergenza Covid avevamo qui in fondazione ricevuto insieme al dottor Rosati al segretario della fondazione una delegazione di parenti dei malati di Alzheimer che ci avevano rappresentato questa esigenza In quell'occasione avevamo dato la nostra disponibilità a valutare qualsiasi ipotesi in questo senso ma in ogni caso dopo che per esempio fosse stato rinnovato il Consiglio regionale perché il soggetto deputato eventualmente a convenzionare questa nuova struttura è certamente il sistema regionale quindi ha poco senso realizzare una struttura che non sia convenzionata e quindi ogni ipotesi è rimandata ad un ragionamento che verrà fatto con la Regione Marche E sul centro Margherita è intervenuto oggi anche il sindaco di Colli al Metauro Stefano Guzzi che lancia un appello alla Regione per istituire un fondo straordinario e un assessorato alle politiche sociali Teneva il nastro tricolore all'ingresso del centro Alzheimer Margherita l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi l'attuale primo cittadino di Colli al Metauro oggi si dice preoccupato per il futuro della struttura inaugurata nell'aprile del 2014 Io seguo da diversi giorni con apprensione e preoccupazione questa situazione del centro Margherita sono in contatto anche con alcuni utenti diciamo così alcuni familiari di persone che lo frequentavano e che lo vorrebbero continuare a frequentare che sono molto preoccupati anche perché quello dell'Alzheimer sappiamo benissimo che è una tematica assai delicata per chi la vive anche nelle famiglie ma anche purtroppo in enorme aumento con l'allungamento della vita è un fattore sempre più presente quindi questa preoccupazione parte proprio dal fatto che è un settore intanto quello del sociale che a me è sempre interessato e toccato tantissimo fin da quando ero assessore tanti anni fa a Fano è stata la mia prima esperienza poi per quel che riguarda il centro Margherita ho proprio un'affezione particolare perché è un centro che ho voluto fortemente io quando ero sindaco Fano insieme alla fondazione Cassa di Risparmio fu un accordo tra questi due enti noi cedemmo il terreno gratuitamente la fondazione lo realizzò e insieme lo abbiamo dato in gestione alla cooperativa Labirinto che gestiva già privatamente un centro di quel genere a Fano ma non aveva più spazi, non aveva più modo di potersi espandere Per Aguzzi è fondamentale che la regione istituisca un fondo straordinario perché senza un supporto economico la Labirinto non riaprirà il centro Margherita infatti a causa delle norme anti-covid la cooperativa dovrebbe assumere più personale sanificare gli ambienti e rispettare le tante regole previste per il settore costi che comporterebbero un aumento delle rette pagate dalle famiglie Io capisco che sono difficoltà molto diffuse forse non è neanche solo di questo centro ma è una situazione molto generalizzata in tutta la regione ma cercare di andare incontro a questo tipo di esigenze e di tematiche in questo momento di grande difficoltà sia assolutamente doveroso e capisco anche che la regione come le Marche possa essere un po' in difficoltà in questo settore per il fatto che ad esempio questa secondo me è una lacuna che va colmata non hanno mai avuto una specifica delega ai servizi sociali cioè nella regione Marche non c'è mai stato un assessore servizi sociali è una delega inglobata all'interno di altre situazioni questo rischia di far passare in subordine queste tematiche che invece sono di prioritaria importanza quindi sarà una lacuna che assolutamente va colmata già dalla prossima legislatura si vota tra poche settimane in regione e un assessorato dedicato ai servizi sociali credo sia doveroso, utile e assolutamente necessario fin dai prossimi mesi e adesso una breve di cronaca i vigili del fuoco sono intervenuti alle 15.45 circa a Montemarciano in via Selvettina per l'incendio di un'autovettura sul posto la squadra di Senigallia dei vigili del fuoco che ha spento le fiamme e messo in sicurezza tutta la zona è ufficiale, le elezioni regionali si terranno il 20 e il 21 settembre prossimi il presidente uscente, Luca Ceriscioli ha fermato il decreto questa mattina Filippo Pucci Firmato questa mattina dal presidente della regione Luca Ceriscioli il decreto di indizioni delle elezioni del Consiglio e del presidente della giunta regionale delle Marche per il 20 e il 21 settembre del 2020 le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 nella giornata di domenica 20 e dalle ore 7 alle ore 15 nella giornata di lunedì 21 settembre per ogni circoscrizione elettorale è stato assegnato un numero di seggi per la circoscrizione elettorale di Ancona 9 seggi quella di Ascoli Piceno 4 come anche quella di Fermo a Macerata 6 seggi mentre nella provincia di Pesaro e Urbino 7 seggi venerdì scorso 17 luglio il presidente Ceriscioli aveva comunicato al presidente della Corte di Appello di Ancona la volontà di indire le elezioni nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre e aveva inviato la comunicazione al presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini e ai presidenti delle regioni italiane in cui sono previste le consultazioni elettorali oggi l'adozione formale del decreto di indizione delle elezioni regionali nelle stesse date si svolgeranno il referendum popolare confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari e anche le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali le nostre priorità ha spiegato Ceriscioli erano quelle di poter individuare una data che non interferisse con la ripresa delle attività scolastiche e al contempo garantisse la concentrazione delle scadenze elettorali dal governo, conclude Ceriscioli è arrivata l'indicazione di queste date a cui ho ritenuto di aderire per rispettare il principio dell'election day in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti del seggio E adesso parliamo invece dell'ondata di calore che dovrebbe arrivare nella giornata di domani e dovrebbe tenerci compagnia per i prossimi tre giorni sarà di livello 1 l'allerta per questa ondata di calore prevista per domani e giovedì con temperature percepite fino a 34 gradi lo rende noto il centro funzionale della protezione civile delle Marche specificando che qualora le temperature perdurassero per tre giorni consecutivi l'allerta potrebbe salire a livello successivo il massimo, lo ricordiamo, è di tre vista anche la forte presenza di umidità il Comune di Ancona invita i cittadini in particolare gli anziani ad adottare tutti gli accorgimenti consigliati come quello di evitare l'esposizione nelle ore più calde il progetto Cotton Fioc si chiama così a Pesaro ha riscosso molto successo diversi volontari che si sono adoperati nella pulizia e nel monitoraggio di parchi e spiagge ripulendole da oggetti non biodegradabili Francesco Salvago Monitorare e pulire le spiagge dalla presenza dei Cotton Fioc sulla Battigia è stato l'obiettivo di un numeroso gruppo di volontari che si sono adoperati e hanno aderito al progetto promosso dall'Associazione Romana Elisia a tutti i parchi naturali costieri il progetto prevede anche una sensibilizzazione all'utilizzo del prodotto USA e Getta non biodegradabile e valutare l'efficacia della legge contro i Cotton Fioc che ha proibito a partire dal 1 gennaio 2019 la produzione e la vendita su tutto il territorio nazionale l'iniziativa aggiunta al suo tredicesimo rilevamento prevede un campionamento mensile grazie all'aiuto delle scuole gruppi scout e delle associazioni ambientaliste dei cittadini vogliamo che il nostro mare soffra di meno la nostra fauna marina sta soffrendo molto e questo è un appello a tutti affinché la gente cerchi di prendere meno plastica poiché prendiamo un prodotto Cotton Fioc in plastica o non a noi non ci cambia niente anzi ci dovrebbe cambiare sapendo il fatto che noi abbiamo un diritto al futuro un diritto per il quale anche noi dobbiamo avere una vita così come i nostri animali che troviamo in acqua perciò cerchiamo di pulire la spiaggia quando ne abbiamo la possibilità perché quando ci sono le mareggiate la plastica che non abbiamo raccolto rifinirà in mare e potrebbe andare in pasto al prescio che vi troverete in tavola abbiamo trovato l'ultima ricerca 70 Cotton Fioc e dobbiamo cercare di appunto come ha detto Riccardo consumare sempre meno e cercare soprattutto di buttarlo negli appositi contenitori nei cassonetti invece che buttarli appunto negli scarichi l'iniziativa a favore dell'ecosistema che è stata vissuta all'insegna dell'integrazione tra Pesore e Fano nell'intento di contribuire alla bellezza del territorio e correggere abitudini sbagliate di alcuni continuerà anche in futuro come ha annunciato lo zoologo del Parco San Bartolo abbiamo l'idea appunto di continuare con questi bravi ragazzi qui abbiamo la rappresentante Riccardo e Sofì di due ma sono molto di più in realtà si alternano, girano però quindi la volontà del Parco con le altre associazioni di continuare questo monitoraggio Monte Ciccardo è ufficialmente comune di Pesaro il Consiglio Comunale ha modificato lo statuto per adottarlo alla nuova situazione la prima delibera approvata all'unanimità riguarda i provvedimenti conseguenti alla fusione per incorporazione di Monte Ciccardo nel comune di Pesaro nello specifico per il 2020 resteranno in vigore i regolamenti approvati dai singoli comuni e dal 2021 Monte Ciccardo avrà le stesse agevolazioni e tributi del comune di Pesaro eccezione per la nuova IMU che entrerà in vigore da subito Taglio del nastro per l'edizione di 2020 di Sinestesia a Mondolfo il festival della multisensorialità che quest'anno prevede mostre sulle arti visive il complesso monumentale di Sant'Agostino apre le porte anche quest'anno alla terza edizione di Sinestesia Festival un evento unico nel suo genere multisensoriale che vuole evocare e stimolare tutti i sensi di percezione il festival si presenta in una forma rinnovata puntando per questa edizione sulle arti visive trasformando la città di Mondolfo in un vero e proprio museo a cielo aperto attraverso progetti espositivi il festival con la direzione artistica di Filippo Sorcinelli e cura dell'associazione PAM Pro Arte Mondolfo ha inaugurato il festival con la mostra Morosare con alcune allegorie dei sensi legate al mondo dell'infanzia dipinte a Roma nel settecento dal pittore marchigiano Antonio Morosi si tratta semplicemente di una concatenazione di sensi una commistione di sensi nello specifico per citare un esempio i rubinetti dell'acqua calda o dell'acqua fredda lo capiamo dal colore di questi rubinetti eccetera ecco questo fenomeno tipicamente sia in estetico per andare proprio sul semplice quindi è un fenomeno che ci ha comune nel percorso quotidiano le mostre non hanno soltanto un senso da utilizzare ovvero la vista ma in questo caso si sentiranno delle musiche si sentiranno dei profumi si avvertiranno dei profumi il tatto chiaramente percepito in alcune opere d'arte che possono essere toccate via via discorrendo tutto questo connubio di sensazioni proprio scatenano dentro il corpo umano dentro il visitatore delle emozioni particolari la mostra animerà il complesso monumentale fino al 31 agosto prossimo per turisti visitatori e non solo che arriveranno a Mondolfo un festival che funziona che ha avuto molto successo negli anni scorsi e quindi quest'anno non poteva mancare è un festival un po' diverso che nel rispetto delle misure dei protocolli di sicurezza sanitaria regionali però è un festival che offre tanto soprattutto dal punto di vista culturale siamo soddisfatti che molte persone vengono anche da fuori comune da fuori regione per venire a visitare i nostri musei l'offerta culturale di Mondolfo proseguirà anche a partire dal 7 agosto prossimo con il progetto Galleria Senza Soffitto dove il centro storico sarà aperto e proporrà un percorso delle memorie storiche e sociali della città attraverso impressioni fotografiche permanenti affidate a Mario Giacomelli e interventi di street art ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito ci vediamo domani mattina alle 7 con la rassegna stampa Occhio ai giornali arrivederci a a a a Grazie a tutti.